Harry Potter Che grande onore per me Chi sei tu? Dobbi l'elfo domestico Harry Potter non deve tornare a Hogwarts quest'anno Ah per Harry Potter Ci stiamo avvicinando Aspetta un attimo Oh mio satana Questo è il male Se il diamo di passola A Harry Potter Una scuola sarà in grave pericolo C'è l'odore che sa E ora dici Cosa? Hogwarts non è più al sicuro La camera dei segreti è stata aperta Allora esiste la camera dei segreti? Sì, la megranita preoccupata come tutti i professori Si dice che la camera sia la dimora di un mostro Sarà meglio che voi state in guardia tutti e tre Tu sai qualcosa di quanto vuol dire? Qualcosa vuol dire? Qualcosa vuol dire? Qualcosa vuol dire? Che sono il bestie dei segreti? Che tu? Io sono il male? Sì Tu sei il diamo in persona Abba, ripote e sapere Ti piacerebbe Io sono il male Sono il figlio Lo cifrema E il figlio di Satana Sono Abba, ripote e sapere E ne ho paura Non frontiamo il potere di salveverde con quello del famoso Henry Abba, ripote e sapere Io sono il male Sono il figlio Sono il conosciuto Io sono il diavolo In persona Abba, ripote e sapere La camera dei segreti Non so avere paura Magari Non so avere paura